Il mezzogiorno, però con il mezzogiorno calcolato la meridiana ha una decina di secondi di differenza e questo sto calibrando Con il video Praticamente io cronometro Sì, dell'equazione del tempo la differenza massima è 16 Io sono venuto 3-4 ore, sempre numero 1 E' la prima volta che lo vede Non ho mai visto Sempre numero 1 Quindi, ragazzi e ragazzi, questa meridiana ha una linea che mostra il sole a 24 gradi dal zenith Questo è il numero 24 che vedete là 24 gradi dal vertigo La latitudine del rumore, ovviamente Sto calibrando la linea meridiana Ma provo a non amperare le vostre foto Faccio questo come in una base regolare? Sì Ora è la nuova, la locale nuova E tra le calibrazioni c'è la differenza tra la locale nuova e la questa Questa è una, c'è circa 10 secondi di differenza 6 minuti 6 minuti Con rispetto alla Averagia nuova Centrale Europa Non è la prima volta Non è la prima volta Non è la prima volta Ma anche se fosse nel medio Abbiamo una differenza ogni giorno Che è l'equazione di motione 44 è un triangolo con 44, 100 e questo è un triangolo recto Quindi 44 è il tangente del 24 Multipliato da 100 Questi sono per la calibrazione Questi sono le quali ho usato I circoli rosati Perché sono mesurati dal principio della linea meridiana E quindi i segui Non erano le domande Non erano le domande Ora Non erano le basse St tigers ma tr Economia Scandola Grazie.